Buongiorno ragazzi, oggi è il 4 aprile e sono ancora qui alle prese con il biliardino perché sì, ancora non ho finito, stamattina il babbo ho tolto le ruggine dalle aste che io avevo finito di verniciare e che adesso si stanno ancora asciugando e adesso sto dando l'antiruggine, cioè lo smalto antiruggine nero alle gambe che ho carteggiato tutto stamattina per completare il restauro del biliardino manca solo ridisegnare il campo da calcio che era di carta verde e è andato tutto, si è infraidato tutto quindi avevo pensato di rifarlo con questo che è un telo di plastica bianco bisogna lavarlo e poi ridisegnarci sopra le strisce nere del campo dato che il campo sarà bianco le palline non possono rimanere bianche perché sennò poi quando uno gioca non si vede più la pallina poi dopo quando si muove veloce eccetera eccetera quindi ho deciso di verniciare le palline di nero e poi ci sono un po' di verniciare le palline di nero Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un cerchioide esattamente identico a questo. Stavo andando giù in garage. Quando vicino ai piccioni vedo questo secchio che un po' assomiglia, no? Beh, più o meno andrà bene. Vado a poggiare questo sopra. Oh, combacia perfettamente. Perfettamente. È incredibile. È perfetto. Dai che alla fine vengono due belle uova di Pasqua. Ah, ecco la battuta. Eh, non l'avevi capito. Eh? Buon caro. Sono correttissimo. Porca te, guarda. Hai fatto la pista? Mi ha fatto la pista. Eh, sì, la faccio anch'io, Leo. Però la metto su dall'alto. La tua macina da bestia, la tua macchinetta. Te hai fatto già praticamente. Aia, non strapp... Ah, va piano. Non pare che i riti lì sono fitti. Ma te sei già tondo. Eh, l'ho imparato. Questo è il teletto di fila. Eh, sì, tranquilla. Ti senti? Eh, comunque te sei già tondo, guarda. Ha fatto presto, lui. Guarda che roba. Grande. Io ancora ho mezzo ciuffo. Se vuoi ti presto la mia. Lancia. Te la mando su Skype. Comunque qua, cioè qua c'è un sacco di... di lana. Ah, veramente. Che è scritto vedere i capelli per terra. Che è pastorissimo. Dove potrei mettere i ladri. Così. E' qua. Lo c'hai una... E' fitto da bestia. growolo, èuc Barry. Hai un sacco di gioco. Mi gioco molto forza. E' qua. Di ando che è in mezzo. Alla domini. E' qua. No. E' qua. B Boi. Sì. oh madonna dai con l'aria adesso stacca il comprosore ecco di se volete vi dico ciao vai nel sole, vai nel sole là, vai nel sole là, vai nel sole là. Adesso tocchiamo il compro. Ecco Leo, ti vuole il lorizzo. Eh dimmi Lori. No, non gli hai fatto il buco? Appena appena qui, e fare un video al giorno è l'obiettivo, ma fare un video al giorno è una sfida, è una sfida. Ci tengo ad aggiungere che è una sfida impossibile, quindi proverò con un video a settimana. Ciao! Cos'è? 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 Cos'è successo? Esplosa la ruota?